Siamo collegati con Giussi Princi che attualmente è vicepresidente della Regione Calabria e anche assessore all'istruzione, all'università, ricerca e formazione professionale della Regione stessa. Ma lei di qui a pochi giorni diventerà anche europarlamentare, lei è stata candidata nelle liste di Forza Italia, ha ottenuto un altissimo numero di preferenze e quindi è diventata europarlamentare. Il 16 luglio verrà ufficialmente investita di questo importante incarico e con lei parliamo anche perché lei fra le 70 e più persone che a Bruxelles e a Strasburgo è una forse delle più titolate, non lo so se è la più titolata, ma certamente è una delle persone che ne sa di più di scuola perché lei ha anche una esperienza sul campo nella scuola, lei ha fatto per molti anni la dirigente classica precisamente nel liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, quindi lei ha molta esperienza sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista tecnico, operativo della scuola. Ecco, e con lei quindi affrontiamo un po' questo tema. La scuola rispetto all'Europa. Senta onorevole, ma ci dica una cosa, ma l'Europa che cosa può fare per il nostro sistema scolastico? Intanto l'Europa rappresenta non solo il presente ma anche il futuro ed è stato per noi uno strumento importantissimo perché è stata una incubatrice che ci ha permesso di stabilizzare una situazione economica fondamentale quando si è trattato del dopo Covid. Ha un impatto diretto rispetto a quello che è l'ambito scolastico, che è quello che ci interessa più da vicino. Lo vediamo noi regioni del sud perché io anche rispetto alla mia nuova visione di europarlamentare rappresento il collegio del sud, le cui regioni del sud appunto che rappresento sono beneficiari già dal 2000 con la famosa agenda 2000 in quanto regioni obiettivo convergenza sono destinatari delle risorse dell'Europa perché tra i principi ispiratori europei vi è oltre la solidarietà e pari opportunità vi è anche quello della coesione, ovvero azzerare quelle che sono eventuali e potenziali differenze tra gli stati membri e noi rispetto il versante istruzione ed educazione abbiamo ancora un sud che arranca e determina quella situazione a doppia velocità. Basti pensare che le spese che l'Europa destina alla educazione e alla formazione vanno a discriminare fortemente il sud rispetto agli altri paesi del nord Europa. E allora quello che si chiede all'Europa è quello di garantire questa importante coesione attraverso delle risorse che siano anche diversificate rispetto a un bisogno diverso che in questo momento il sud ha e che permettano che finalmente, io dico, la scuola diventi pienamente quell'ascensore sociale delle opportunità. Ecco, ma onorevole, ma l'Europa ci ha dato appunto molti soldi, sono i soldi del PNRR e noi dobbiamo anche raggiungere degli obiettivi. Fra questi ce n'è uno molto importante che bisognerebbe un po' mettere a punto entro il 2027 che riguarda in particolare la regione Calabria ma anche le altre regioni del sud. Di che cosa si tratta? Sì, sì. Abbiamo da raggiungere il tetto di oltre 300.000 assili nido che diventano fondamentali per il sud, per la Calabria che è anche la mia regione per contrastare la povertà educativa perché abbiamo visto dall'ultimo rapporto Save the Children che le aspettative di vita media di un bambino che nasce in Calabria e nel sud sono nettamente inferiori rispetto a un bambino che nasce in altre parti d'Italia e quindi questo denota quanto sia importante un intervento di carattere educativo formativo che abbracci già i primi mesi di vita e quindi quanto sia importante intervenire con le sezioni primavera con gli asili nido, con centri educativi per l'infanzia che siano di accompagnamento e che riescono a creare quel processo di formazione della personalità che poi getti le basi educative e formative per il dopo perché un buon intervento nei primi anni di vita serve anche a prevenire la dispersione scolastica di cui il sud purtroppo ne diventa portatore per cui la scuola e le opportunità che l'Europa deve destinare in tal senso devono essere centrali e un obiettivo strategico e cardine nell'ambito delle direttive europee Ecco però, senta onorevole, a proposito di questo tema degli asili nido che è certamente un obiettivo importante, nessuno lo può mettere in dubbio però c'è un problema, gli asili nido hanno un senso e diventano direi essenziali diventano determinanti soprattutto in quelle aree del territorio nazionale dove l'occupazione femminile è particolarmente alta Ora, nelle regioni del sud, per ragioni che adesso non stiamo ad esaminare ma l'occupazione femminile è particolarmente bassa no, almeno è più bassa di altre regioni dell'Italia non c'è il rischio che poi tutti questi posti di asilo nido che si creano restino di fatto vuoti perché le famiglie non hanno motivo per mandare i loro bambini al nido? E allora, è vero quello che dice lei perché gli asili nido accompagnano anche un percorso di indipendenza occupazionale al femminile in questo caso però ritengo che, e le spiegherò anche come Regione Calabria quanto noi stiamo facendo per garantire quelle pari opportunità anche in ambito salariale di accompagnamento al genere femminile però gli asili nido sappiamo quanto siano importanti perché non è un inserimento e questo mi fa piacere quanto è avvenuto a livello nazionale con il piano nazionale a seguito della buona scuola che ha istituzionalizzato il sistema di educazione e di formazione perché si è passati da una logica di tipo assistenziale quale veniva considerata ante 2017 ad una logica di tipo educativo perché l'asilo nido ha un ruolo determinante perché è affidato intanto a professionisti del settore a personale qualificato, a personale formato che accompagna il processo di individualizzazione del bambino e sappiamo le difficoltà a prescindere che i genitori magari richiedano il nido per motivi lavorativi però io ritengo che diventi centrale io mio figlio nonostante avessi la possibilità comunque di lasciarlo ai nonni o agli zii l'ho mandato all'asilo nido perché diventa fondamentale nello sviluppo integrale e armonico della personalità degli stessi diciamo bambini poi quello a cui faceva riferimento lei diventa altrettanto importante perché io avendo anche la delega alle pare opportunità con il microcredito ho stanziato 10 milioni di euro di accompagnamento all'imprenditorialità femminile intervenendo con tutti i bandi che come Regione Calabria abbiamo promosso a dare una premialità a quelle aziende che avessero assunto delle donne quindi intervenendo con i nidi aziendali e quelle forme di flessibilità lavorativa che permettessero alle donne di conciliare l'essere madre con lo status diciamo lavorativo anche perché la logica è stata sempre quella che la maternità deve essere una scelta e non deve essere diciamo condizionata dalla mancanza di opportunità forse però allora ci sarà anche bisogno poi di una grande campagna di informazione se vogliamo anche di educazione nei confronti dei nuclei familiari per far capire a tutti quanti quello che lei molto opportunamente ha detto e ha sottolineato cioè l'asilo nido non va inteso soltanto come un luogo di assistenza necessario per i bambini la cui mamma lavora cioè l'asilo nido è un luogo educativo di grande importanza che anzi se ben costruito e se ben utilizzato può aiutare molto a contenere e a ridurre la dispersione scolastica è giusto? Sì, noi diciamo già questo lo stiamo facendo perché abbiamo già attivato in Regione Calabria un'importante rete di coinvolgimento degli ambiti territoriali dei comuni che diventano poi centrali e quindi delle famiglie quindi nell'ambito di una campagna anche comunicativa in tal senso perché abbiamo sottoscritto un protocollo con l'ufficio scolastico regionale quindi parallelamente abbiamo previsto la formazione del personale docente istituendo i poli educativi per l'infanzia all'interno degli istituti comprensivi quindi c'è anche il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici che hanno risposto devo dire in maniera importante per cui oggi siamo nelle condizioni in Calabria di avere questa importante rete che sta garantendo queste opportunità sin dalla più tenera età certo il gap è ancora importante quello che ci distanzia dalle regioni del nord perché io parlavo prima anche di dispersione scolastica noi abbiamo non soltanto la dispersione scolastica esplicita ma anche la dispersione scolastica implicita di ragazzi che si vanno a diplomare e non hanno le competenze poi di base di accompagnamento al titolo che vanno a conseguire questo diventa un aspetto altrettanto critico ed importante che ci consapevolizza sempre di più di quanto sia importante insistere ed intervenire sin dalla più tenera età sento onorevole passiamo ad un altro tema che è quello della accoglienza degli alunni stranieri nelle nostre scuole è un tema molto importante in questi ultimi mesi è venuto a galla più di una volta secondo lei a livello europeo cosa si può fare? Cioè l'Europa può dare delle linee guida per aiutare anche il nostro paese a affrontare meglio questo tema e a rendere davvero il nostro sistema scolastico accogliente a 180 gradi nei confronti di chi non è nato nel nostro paese oppure di chi è nato ma vive in famiglie non italofone e quindi magari può avere delle difficoltà soprattutto dal punto di vista linguistico l'Europa cosa può fare? L'Europa diventa centrale intanto negli indirizzi e negli orientamenti tra l'altro è previsto nel trattato proprio europeo la lotta a qualsivoglia forma di disuguaglianze e di discriminazioni di genere considerando che anche in Calabria siamo passati negli ultimi 13 anni da 400.000 a oltre 800.000 studenti stranieri io ritengo che questo per noi sia un aspetto centrale che è anche costituzionale perché il processo di integrazione che accompagni l'inclusione fa parte di quella che è la quotidianità che dovrebbero adottare tutti quanti gli istituti scolastici un accompagnamento che sia di carattere educativo formativo e che vada ad abbracciare anche le famiglie di prima e di seconda generazione perché anzi la diversità da sempre deve essere considerata una risorsa all'interno degli istituti scolastici il fatto stesso che noi parliamo di bisogni educativi speciali quindi di quella categoria per cui è necessario attivare una personalizzazione degli apprendimenti deve andare ad interessare a maggior ragione gli studenti stranieri che non significa ghettizzare come qualcuno in maniera impropria e fuori luogo ha esordito perché l'integrazione va fatta all'interno del contesto scolastico e mi piace evidenziare che per fortuna la legge italiana con la 517 del 77 ha abolito le classi differenziali per cui il processo di inclusione deve avvenire all'interno delle istituzioni scolastiche ed è appunto contemplato tanto dalla nostra Costituzione tanto dalla eh dalla dall'Europa che ne eh rimanda ad uno dei principi appunto costitutivi dei trattati che vanno poi a orientare tutti quanti i paesi che ne sono membri poi ogni paese va ad adottare quelle che sono poi le misure di accompagnamento abbiamo alcuni paesi europei che vanno a prevedere che l'inclusione preveda per determinati periodi o delle diciamo classi differenti perché possa avvenire l'accompagnamento di carattere linguistico per poi inserire ragazzini all'interno diciamo delle eh delle classi noi eh è quello che rivendichiamo e lo rivendico anch'io da sempre come appunto dirigente scolastico e prima ancora che docente ritenere la diversità a prescindere dall'etnia a prescindere da qualsivoglia forma di differenza una ricchezza e un'opportunità che aiuta appunto tutto quanto il gruppo di riferimento a crescere ed integrarsi certo occorre poi sostenere perché quello che l'Europa deve fare è quello di accompagnare il processo di inclusione con delle risorse finanziarie che prevedano i mediatori culturali i mediatori linguistici e quindi una formazione specifica per quanto riguarda il personale docente e poi le opportunità che già anche noi con le risorse comunitarie andiamo ad attivare cioè il fare delle scuole presidi sociali oltre che culturali che accompagnino l'inclusione con variegate attività dal teatro alla musica all'arte quindi forme di integrazione sociale e culturale e che soprattutto nell'ambito di quella alleanza importante educativa scuola-famiglia che è già dai decreti delegati del 77 che le scuole dovrebbero adottare è importante coinvolgere le famiglie e le famiglie in questo caso dei ragazzini stranieri di prima e soprattutto di prima più che di seconda generazione laddove sono maggiormente già inseriti ed integrati nel contesto perché sarebbe bello che fosse studiata negli istituti scolastici anche la lingua dei ragazzini stranieri inseriti perché il bilinguismo in questo caso accompagnerebbe renderebbe più ricchi anche i ragazzini italiani che sappiamo quanto sono importanti le lingue senta onorevole senza dimenticare che tutto questo che lei ha detto però si innesta su un tema che riguarda tutto il paese ma che probabilmente nelle regioni del sud e forse proprio nella sua regione la Calabria è ancora più evidente ed è il problema drammatico direi del calo demografico soprattutto del calo demografico delle aree più marginali delle aree interne delle aree più disagiate e che cosa si può fare in proposito eh sì perché noi stiamo andando incontro ad una forte denatalità stiamo andando incontro invecchiamento della popolazione quindi questo decremento demografico a cui faceva riferimento lei ma è una tendenza che appartiene non solo al sud ma appartiene all'Italia intera perché se pensiamo che entro il 2035 noi andremo a registrare in Italia meno 15 milioni di abitanti in Europa di cui 2,6 milioni di abitanti meno in Italia a differenza dei paesi del Mediterraneo che andranno a registrare più 56 milioni e allora l'intelligenza nostra strategico dovrebbe essere proprio questa apertura al Mediterraneo cioè allora vivere l'integrazione e l'accoglienza in questo caso come opportunità per ripopolare i nostri borghi e i nostri plessi scolastici che stanno rischiando soprattutto nelle aree interne di chiudere senta onorevole chiudiamo con l'ultima domanda con una questione di estrema attualità pochissimi giorni fa il Parlamento ha approvato la legge sulla autonomia differenziata la vostra regione la regione Calabria che pure è organica diciamo ha l'attuale maggioranza di governo però ha già sollevato non pochi dubbi e non poche perplessità come pensate di gestire questo problema sia dal punto di vista operativo ma poi anche dal punto di vista dei rapporti politici con il governo centrale cosa intendete fare cosa volete fare cosa pensate che si possa fare sì intanto grazie per avermi permesso attraverso questa domanda di chiarire quella che è la nostra posizione non c'è stata alcuna frattura c'è stato soltanto un rivendicare un metodo che ci saremmo aspettati ma per meglio approfondire quella che è una materia molto dedicata che noi come Forza Italia si è riusciti quando la proposta era in Senato a prevedere che non possa essere autorizzata alcuna delega alle regioni richiedenti se non prima vengono definiti e autorizzate le risorse per la copertura dei LEP per dei livelli essenziali delle prestazioni che traducendolo in risorse economiche alla Calabria ne occorrerebbero 100 miliardi quasi per cui la vedo poi difficile la concretizzazione in tal senso quindi quello che noi si è chiesto come governo calabrese che ci magari ci fosse maggiore tempo per approfondire alla Camera la fase attuativa dei regolamenti quindi abbiamo semplicemente un attimo non contestato ma ci saremmo aspettati che magari ci fossero stati dei tempi diversi e si potesse approfondire meglio però ci rassicura come le dicevo prima il fatto che comunque non possa essere autorizzata alcuna delega alle regioni richiedenti se non prima vengono autorizzati e riconosciuti i LEP e le relative risorse bene ringraziamo l'onorevole Giussi Princi di Forza Italia che il 16 luglio prossimo quindi fra poco più di due settimane inizierà il suo lavoro come europarlamentare per lei è la prima volta in Europa però non dimentichiamo che lei ha già una buona esperienza politica qua in Italia precisamente come assessore all'istruzione e alla formazione professionale all'università e alla ricerca in Calabria dove peraltro lei è anche la vicepresidente quindi insomma un po' di esperienza politica lei l'ha già fatta e non dimentichiamo che lei ha una lunga esperienza sul campo perché lei da diversi anni è anche dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria quindi le facciamo i migliori auguri e le auguriamo di poter portare a Bruxelles e a Strasburgo le sue capacità la sua competenza le sue conoscenze proprio in ambito scolastico e a Strasburgo e a Strasburgo e a Strasburgo e a Strasburgo